La Fiera di Forlì 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 Davis prende ancora il palo Ancora un rimbalzo e un fallo Siamo a un passo dal paradiso Stefano Gara 2-20 2-0 per Forlì Sì veramente grandissimo Nicolai Grandissimo Williams Non c'è un fattore a mio parere Determinante Collettivo Nella vittoria Della 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 L'Italia Forse la difesa La reattività Ma soprattutto La reattività E le gambe Il cuore di Andrea Nicolai Montedo in luneta Può mettere il sigillo Come in gara 1 Può chiudere in cassaforte La vittoria Dell'Oli Italia Che va su 2-0 Ma non deve commettere l'errore Di considerare Già finita la serie Ruggeri da 3 Va a realizzare 69-60 Williams Montedo La partita è finita Grazie Stefano 4 Ancora l'urlo del palafiero Ma dentro anche questo 2-0 per Forlì 72 l'Italia 60 Team System 2-0 per Forlì Grande soddisfazione Di fronte a un grandissimo pubblico